Il primo regolato è la voce, 25, 45, 6 anni, proveniente da Venezia, Tata Lugia, e il resto è la cittadina, il primo regolato è il primo regolato 3, attenzione, il primo regolato è la voce, 25, 45, 6 anni, proveniente da Venezia, Tata Lugia, e il resto è la cittadina, il primo regolato è il primo regolato è il primo regolato è il primo regolato è il primo regolato, ilico regolato è il primo regolato, 5 anni, Ferrari, 3 anni, 500, 6 anni, per passare il primo regolato è il primo regolato, bell'altro regolato è il primo regolato è il primo regolato,